Presentato qui ad Ascoli il progetto Ascoli Bike Park, un'opportunità per tutti i ciclisti appassionati di mountain bike per scoprire tutti i luoghi dell'apiceno, di Ascoli e dintorni attraverso la bicicletta e degli spettacolari paesaggi naturalistici. Sì, l'Ascoli Natural Bike Park appunto, che è un progetto che è stato portato avanti dall'associazione Ascoli Bike Team e di recupero di tutti quanti i nostri sentieri, delle nostre splendide zone collinarie e montane. È un'opportunità importantissima perché oltre all'aspetto sportivo che permette appunto agli amanti dello sport e la mountain bike di poter frequentare i nostri sentieri, ha anche un aspetto anche turistico perché sempre più la città di Ascoli prende forma come una città a livello turistico proprio a 360 gradi. Sappiamo che gli appassionati di questo sport sono in tutta Italia e di conseguenza Ascoli permette anche grazie a questo sport di poter far affluire nella nostra zona questi turisti. E di conseguenza tante attività, quindi recupero dei sentieri, manutenzione, è stato fatto anche un bellissimo sito internet che può essere consultato insomma in ogni zona d'Italia, in tutto il mondo, dove anche con foto, anche con percorsi è possibile subito capire l'importanza di questo progetto.